Rende si afferma come città della birra del sud Italia, grazie al crescente successo dell'Octoberfest Calabria, organizzato dalla WISEA Eventi. A dichiararlo è Valerio Caparelli, portavoce del gruppo di organizzatori, in occasione dello sprint finale dell'evento più importante della Calabria. Numeri da capogiro in termini di affluenza dei partecipanti, non solo calabresi, ma anche del centro nord Italia, oltre che dalla Campania, dalla Puglia e dalla Sicilia. Un palatenda sempre pieno, con persone di ogni età, tante famiglie e comitive di amici, sia per ascoltare e divertirsi con le musiche internazionali della band bavarese Alpen Vagabunden, sia per ballare gioiosamente sulle note degli artisti calabresi, selezionati dal direttore artistico dell'evento, Walter Sposato, che si sono succeduti sul palco tutte le sere, prima del DJ set conclusivo. Anche l'area esterna ha riscosso notevole successo con i beer lovers, che hanno saputo interpretare al meglio l'atmosfera che ha dato vita a questo luogo di aggregazione, mangiando e bevendo le sfiziosità bavaresi preparate dallo staff diretto dallo chef Alessandro Anelli e dal coordinatore della cucina Enrico Cristiano. Un lavoro di gruppo che dimostra come anche in Calabria si possono organizzare grandi eventi, come ad esempio la festa più popolare al mondo sull'universo della birra, che da un decennio a questa parte sta spopolando sempre di più nei consumi e nelle preferenze dei consumatori.